no volete vedere qualcosa di figo? ahahah 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 beh ragazzi questo è Eppri e benvenuti in questo video speciale allora ieri sera stavo vagando sul tubo quando mi sono imbattuto nel video di Cane Secco dove facevo la parodia della Cap Song io non avevo idea di cosa fosse e sono andato a vedere i video che appunto aveva anche inserito nel suo video stesso in pratica la cup song è una canzone cantata con il ritmo di un bicchiere come direte ma che cazzo dici step si è una cosa stramba se volete andatvela a cercare su youtube e ho detto vabbè perché non accettare anch'io questa sfida magari viene fuori anche magari viene anche fuori un video direttente ok? quindi ora io ci proverò ho guardato un paio di video per imparare e non ci sono riuscito quindi vediamo un po' cosa viene fuori porco dio ok? allora let's do this ok non ci siamo quelle cazzo di negri americani ci riuscivano porca puttana non è così non ci siamo capiti eh che poi in teoria devo anche cantare una canzone sottofondo è possibile vabbè allora ci devo riuscire non posso riuscirci voglio farla anche questa cazzo di sfida di merda vaffanculo 3 2 1 via vaffanculo ecco il cane negro bastardo quel cinese ebreo cazzo non ci stai non ci stai non ci stai stupacchi ma vaffanculo ma che vuoi ma amassola pezzo di merda vaffanculo sto scemo mi rompì il cazzo in the jungle, the mountain jungle the lion's dream tonight in the pandemic, the mountain jungle the mountain night, the mountain sea the night remember we 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 the bu the lion's dream the Ehi ragazzi il video è terminato Io spero vi sia piaciuto Ciao Sepri Abbiamo rapito il tuo cazzo di gatto Lo vuoi vedere? Lo vuoi vedere? Lo vuoi vedere? Se non prendi 2000 mi piace Col cazzo che lo rivedi Beh ragazzi il video è finito Io spero che vi sia piaciuto Sul mio canale ne troverete sempre cose del genere Perché oltre a fare videogiochi Mi piace comunque intrattenere le persone Divertirvi E comunque strapparvi un sorriso Quindi se così è stato mi raccomando Scrivi un commento qua sotto Condividi il video su Facebook In modo da aiutarmi comunque a crescere Così possiamo conquistare il mondo Non date spava a quel coglione là dietro per piacere Io vi saluto ragazzi Noi ci vediamo con un prossimo video Questa è per tutto Buoniii Noi ci vediamo con un prossimo video